Non contro qualcuno, non contro qualcosa, ma una manifestazione per difesa del vostro lavoro, del vostro impegno quotidiano nelle campagne e nel mondo agricolo. Io credo che quindi l'atteggiamento che Coldiretti ha mantenuto in questa progressiva mobilitazione che è partita dal territorio e che purtroppo continua a rivendicare problematiche antiche che permetterebbero di risolvere i problemi che ancora lasciano la nostra agricoltura e il vostro lavoro quotidiano in una situazione di grandissima difficoltà, credo che la manifestazione di Coldiretti abbia raggiunto un obiettivo oggi, quello di mettere insieme le istituzioni, tutte, il Consiglio regionale, la Giunta che era presente qui con gli assessori, perché Battista non è un problema che qui non è presente la Presidente della Regione, qui è presente un'intera squadra, sono presenti 60 consiglieri regionali, è presente tutta la Giunta regionale, è presente anche la nostra Presidente perché il problema non è ideologico quando si tratta di difendere il lavoro nelle campagne.